Francesco Monte Bianca Azei Francesco Monte Bianca Azei, c'è intesa, lui salva lei all'Isola dei Famosi Francesco Monte Bianca Azei insieme, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha salvato la cantante all'Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin avevano ragione a Verissimo, tra Francesco Monte e Bianca Azei che è già intesa sull'Isola dei Famosi. E la prova è arrivata a poche ore dalla messa in onda della prima puntata. Barbara D'Urso a pomeriggio 5 ha mostrato in una clip le prime immagini dei naufraghi rinchiusi in una villa spiata dalle telecamere. La produzione ha regalato ad alcuni di loro un'amara sorpresa, non tutti, infatti, hanno potuto dormire su dei comodi letti. . Molti, tra le quali Rosa Perrotta e Francesca Cipriani, si sono dovuti accontentare delle amacche. . Ma in che modo sono stati decretati i concorrenti più fortunati. . . Isola dei Famosi, Francesco Monte salva Bianca Azei. Durante una prova guidata dal nuovo inviato Stefano De Martino, i naufraghi sono stati invitati a pescare delle canne di bambù. . Chi pescava quella con fondo bianco dava il via alla catena di salvataggio per riuscire a dormire nella villa anziché alla ghiaccio. . Il fortunato è stato proprio Francesco Monte che, appena pescata la canna giusta, ha salvato Bianca Azei. . . Quest'ultima, al settimo cielo per il gesto dell'extronista di Uomini e Donne, ha subito ringraziato il ragazzo con un caloroso bacio sulla guancia. . Dunque, Francesco e Bianca hanno già creato un legame molto forte, tanto che l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non ci ha pensato molto prima di salvare l'interprete di Origini Sarde. . Francesco e Bianca complici in Honduras. . . . Cosa succederà tra Monte e Lazzei? Insieme supereranno il dolore per le pene d'amore passate? Anche Bianca, proprio come Francesco, esce da una dolorosa separazione, dopo due anni e tanti progetti insieme, il pilota Max Viaggi l'ha lasciata all'improvviso senza spiegazione alcuna. . 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